Nastro in Kevlar americano, rotolo di nastro adesivo per gli usi più disparati, resistentissimo, fibra in Kevlar interna, molto molto aderente, colore verde olivanato, questo nastro è resistentissimo, tirandolo è indistruttibile, non si spezza mai, invece per tagliarlo lateralmente è come la carta, si taglia benissimo anche semplicemente con le mani, è molto molto facile da usare, utilizzabile per qualunque scopo, fissare equipaggiamenti, nastrare pezzi di tenda rotti, parca in Gore-Tex strappati, ai usi più impensati, facile da trasportare, il nastro è semplicissimo, ha un rotolo aderente su se stesso, all'interno ha una parte in cartone che lo supporta. Grazie. Grazie.